Siamo nuovamente in compagnia dello scrittore Donato Di Capo che è tornato a trovarci in occasione dell'uscita del suo quarto libro, L'uomo che vendeva ricordi. Di cosa parla questo libro? È un libro che parla della mente, parla della memoria, della vita che scorre inesorabilmente che lascia una scia. Questa scia noi la chiamiamo memoria e abbiamo la possibilità di percorrere questa scia a ritroso, quindi ripercorriamo indietro il tempo. Grazie all'alchimia di questo tempo e di questa memoria noi abbiamo i ricordi, una cosa molto importante per la nostra vita perché ci permette di rivivere il tempo a ritroso vivendo le emozioni di quei tempi e quindi un tempo presente. All'interno di questo libro però c'è una tematica che è importante, che è quella legata alla malattia dell'Alzheimer. Sì, all'interno del libro ho voluto inserire questa piaga, ho voluto inserire la malattia dell'Alzheimer perché se ne parla veramente poco. È un dramma per le famiglie che vivono questa malattia e per i pazienti, per gli ammalati. Io con questo libro ho voglia di portare in giro per le mie presentazioni il tema Alzheimer, per sensibilizzare oltre che la malattia, la solitudine che queste famiglie soffrono a causa di questa malattia. Durante la chiacchierata che abbiamo fatto poco fa hai sostenuto una cosa importante, che i malati di Alzheimer non sono assenti. È un mio sviluppo letterario. Ho voluto sognare su questo dramma, tirando fuori una teoria un po' mia, particolare. I malati di Alzheimer non sono assenti, sono silenziosi. La mente di queste persone sono delle menti che non riescono a comunicare con quello che noi pensiamo sia il nostro tempo, la nostra convenzionalità, ma che siano delle menti comunque che a modo loro, che in una loro dimensione, continuano ad esistere e sono diventati appunto silenziosi ma ai nostri vincoli che abbiamo di tempo e che abbiamo di realtà. L'Uomo che vendeva ricordi è un romanzo che ha più protagonisti? È un romanzo che sì, che gioca tra vari protagonisti. Il protagonista fondamentale, principale è Emanuele. Però c'è Gustavo Lor, un altro personaggio. Per tutti gli altri comunque esiste un ruolo. Un ruolo ben definito perché ognuno di loro nella storia identifica in modo diverso il tempo e il suo scorrere. Ricordiamo che il ricavato, i diritti di autore di questo romanzo, di questo tuo quarto libro, saranno devoluti in beneficenza all'associazione Alzheimer Basilicata. Sì, è una mia scelta per cercare di dare una mano concreta anche alle associazioni regionali, alle nostre associazioni. Devolverò i diritti d'autore del primo anno di questo libro a questa associazione, appesi occupa dell'assistenza sia psicologica dei parenti, dei familiari di queste vittime di Alzheimer, sia l'assistenza legale. Un libro che sta avendo già un grande successo. E ancora non l'abbiamo presentato. Faremo la prima presentazione a Pietragalla appunto il 4 marzo e già è in vetta nelle vendite come classifica Chimeric, che è la mia casa editrice. Perché leggere L'uomo che vendeva ricordi? Perché è un libro che ci dà la possibilità di fare delle riflessioni sulla vita e su come impieghiamo male il nostro tempo, su come vale la pena di più vivere con l'anima, su come vale di più la pena vivere di un'amicizia, di un qualcosa di molto intimo e personale, piuttosto che la classica vita professionale che ci dà magari un agio maggiore, ma che alla fine ci rende schiavi della nostra stessa vita. Invece in questo libro è raccolta l'essenza della vita, quella vera. La vita che si deve articolare sugli affetti, su quella che è la quotidianità sensibile che ognuno di noi ha e che deve avere. Quindi io credo che sia un libro che trasmetterà sicuramente a un lettore delle emozioni, un libro che sicuramente lascerà le menti che andranno a leggerlo in una sorta di riflessione, un libro che regalerà sicuramente delle emozioni molto forti, sia emozioni che faranno scappare forse una lacrima perché ci medisemeremo talmente tanto in questo libro, che penseremo anche ad alcune cose nostre personali, ma che ci faranno anche sorridere e ci faranno gioire dell'amore a 360 gradi che il libro trasmette. Un altro motivo per leggere L'Uomo che vendeva i ricordi è anche perché scritto da un bravissimo scrittore lucano. Donato, un'ultima domanda. Perché questa illustrazione? Di chi è? Sergio Nappo, un autore, un pittore ligure, un grafico e a mio parere un bravissimo pittore. Ho trasmesso a lui le bozze del mio libro. Non ho voluto sapere niente, ho detto non mi dire niente, voglio vedere cosa hai provato per questo libro. Lui mi ha veramente gratificato molto. La sua bravura, la sua professionalità mi ha gratificato perché quando poi ho visto questo quadro mi sono reso conto che realmente identifica a pieno quello che è L'Uomo che vendeva i ricordi. Cioè ciò che io volevo trasmettere.